ciao amici youtube bentornati in questo nuovo video siamo di nuovo su genshin impact ed è tornata navia io avevo detto che non provavo a prenderla c2 ma non riesco e soprattutto notate chi c'è nel banner in recap con navia c'è nin guang è tornato cave che letteralmente era stato cancellato dal gioco i file sono stati rintrodotti di recente e poi c'è lei ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta abbiamo beccato finalmente un banner in cui questa cessa di chirara si fa pullare quindi fondamentalmente sono qui per prendere una cosa di chirara che non ne posso più quindi siamo qua per questo se la vinco c2 per me gg se la perdo emily garantita si va verso natran quindi non vorrei far stare a fare due piti vediamo un po come va però nel frattempo comunque c'è chirara li cave non ho finito i costellari è sicuramente un banner che mi piace quindi niente vi auguro buona visione dopo di me ci saranno anche le pull degli altri ragazzi hanno pulato per navia e per nilu e vi auguro buona visione vediamo a 20 27 28 via 29 ok chiaramente vabbè sono pull 30 ok ci siamo sì sì sono pull e lo sapete che io ho il piti salvagente come voi ben sapete il piti salvagente anzi grazie a seji wine è aumentato enormemente il piti salvagente da 200 adesso è a 230 pull che sono qua ferme condensate per quando sarò in bancarotta quindi sì ci sono 230 pull lì piti salvagente ferme da due anni che continuo a tenere solo per quando dovrò pullare qualcuno e non ho le pull per farlo bene siamo a 30 ragazzi si va di molti comunque vada è un successo quindi da 30 andiamo a 40 4 stelle vediamo cosa ci viene dato in questa multi allora 4 stelle alla fine perché è uscito nella singola prima dell'ultima quindi almeno non abbiamo fortuna lo trovo prima è nelle ultime singole quindi per ora si va tranquilli vediamo chi sarà cosa sarà cosa sarà cosa sarà perfetto abbiamo iniziato benissimo molti delle armi multifortunata 50 oh ora c'è il 66% periodo e mi vada bene 66% periodo e mi vada bene perché vorrei o un cave o una chirara quindi ci sei buono ce l'abbiamo lui ci sei finito finito cave finito collezionismo anche i cave diventano pull molto bene cave finito ok 60 eh ma la cesta lo sa la cesta lo sa che non vuole uscire lei lei lo sa cesta non a caso esatto pure il rust pure il rust vuole far parte ah sì ma tanto la prendiamo con l'evento quindi oggi sono proprio nel cile perché so che tanto anche se 70 non mi esce la prendiamo con l'evento quindi proprio proprio così buono questa inizio molti un'altra pull c'è oggi non scappa può anche non uscire ma con l'evento la prendo lo stesso allora adesso faccio quattro singole tra l'altro se non mi esce un altro quattro stelle c'è il quattro stelle in queste quattro singole e poi abbiamo la multa a 5 stelle ansia panico ok 5 stelle ok a 70 71 eccolo qua fine fine questo me l'ha fatto Melody il porta fortuna di Kirara un po' lo riraccolgo eh però via via basta 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 volata basta fine questo meme è finito basta facciamogli sta cazzo di foto perché così se poi stanno ottimi addormento e mi chiedo se lo trova veramente ho la prova finito ora fatemi raccogliere il corso di Melody che poverina c'è Melody ma anche scritto dedica dietro ecco la Kirara che ti manca ora la rimetto qua perché me l'ha regalata Melody però l'ho dovuta un attimo volare eccoci qua fine fine no felice no proprio zero felicità zero cioè ma vaffanculo basta ciao vattene via ma guardate bene ok possiamo continuare mi ha tirato la ultima 5 stelle qua allora 71 era questo torniamo seri 72 ma ditemi voi ragazzi per un 4 stelle e adesso può andarsene a Fanku esatto poi 73 ora vediamo se portiamo a casa madre navia o se abbiamo un garantito va bene in entrambi i casi lo accettiamo con orgoglio abbiamo finito Cave ed è uscito una Chirara abbiamo sbancato ultima 74 bene allora molti del 5 stelle comunque vada sarà un successo dicono e comunque vada sarà un successo molti del 5 stelle ci siamo allora 75 76 bella 77 78 top top amore mio noi unite in eterno guardateci guardateci le gemelle guardate le gemelle guardate le gemelle cioè non poteva che andare così li ho vinti tutti su navia ufficialmente perfetto adesso siamo a 50 let's go siamo già oh si l'ho fatto prima 41 piti gatti forse 42 43 43 43 top GG nero perché sai perché è uscita perché sei l'unico che la voleva prendere è vero e quindi ha detto sai cosa sì ok multi allora yes let's go 71 let's go 5 stelle preghiamo ok ok 62 63 64 nessuno è pollo 65 ci siamo soft 66 ok 67 tirate bene 68 ok porca puttana 69 marco 69 no no 69 mazziato dal tuo stesso piti è da parto c'è ma uno prima multi 11 11 5 stelle fatto ho già fatto va bene ho fatto bene io contro il mondo ho fatto bene mi sembra di sì dai va bene cioè anche se è perso chi cazzo se ne frega abbiamo già abbiamo già sbancato questo è piti due 3 4 5 6 fatto piti 6 che vi dico che vi dico io contro il mondo eccomi qua si va tanto verdetto selezionato 14 5 stelle 5 stelle oggi è proprio semplice giocare vediamo se è quella giusta vabbè però se non è quella giusta va bene lo stesso dai dai che gratis per il follow andiamo a 4 6 5 6 se usciva a sé era divertente visto che la sei anche di là 7 8 9 è uscito lo sprayer mi dispiace ci ho provato però è piti 9 67 eccoci ci siamo yes sì quella giusta l'abbiamo fatta nico è uscita anche a me quando pullai al secondo piti come te 74 4 stelle c5 c5 vai il look è ora di uscire dopo tutti sti anni va bene l'ha detto vieni a casa di look ti aspettiamo prendiamoci conto bene 75 76 77 vinto vinto francia nel tuo account ci sono io adesso ciao ciao Grazie a tutti.